per se sia difficile comprendere la contingenza di queste forme espressive senza coinvolgere anche il tema delle migrazioni, più nello specifico della migrazione interna, dicevamo, sia per il caso della popolazione studentesca di Bologna, anche per il caso dei centri giovani di Modena e credo che sia interessante e anche molto intuitivo provare a mettere a fuoco il fenomeno per il quale questi linguaggi servono a chi viene da fuori per sentirsi un po' più a casa quando vengono praticati, cioè come i bambini che per addomesticare uno spazio che non conoscono bene, giocano con le barchette nella fontana o si appendono alle giostre, insomma è un modo per fare casa laddove casa non c'è e al tempo stesso questo fare casa dello straniero non può che inquietare e spaventare e straniare l'indigeno perché si ritrova con la strada piena di scritte e quindi vive un'esperienza di straniamento. Esperienza di straniamento che in modo forse più logico che più propriamente tematico mi dà la possibilità di passare alla presentazione della prossima relazione che è quella di Claudio Musso con un'avvertenza che varrà anche per Fabio Lanaldi, cioè che nel loro caso non è del tutto corretto parlare solo di relatrice e relatore per il semplice motivo che dal maggio del 2013, cioè da quando facciamo Via dell'arte al Teatro delle Passioni a Modena, che dicevamo che abbiamo condiviso lo sforzo di immaginare uno spazio come quello di oggi prova ad essere. Quindi insomma l'abbiamo provato ad immaginare insieme questa cosa. Per quanto riguarda Claudio Musso, è critico d'arte, curatore indipendente, docente di fenomenologia delle arti contemporanee e di teoria della percezione e psicologia della forma presso l'Accademia Carrara di Belle Arti di Bergamo, dove è coordinatore anche del corso di Pittù, è editorialista di Art Tribune e autore del programma Distrassen Zeitung su Neuradio, giusto? Nel 2012 ha ideato e curato con Fabio Lanaldi e in collaborazione con Dado, che è quando ci siamo conosciuti, Frontier, la linea dello stile, che è stato già citato, progetto speciale del Comune di Bologna con la Regione Emilia-Romagna, Acer e l'Urban Center di Bologna. Nel 2013 ha curato sempre con Fabio Lanaldi presso il Mambo di Bologna il convegno internazionale con Frontier, writing, street art e spazio pubblico. Nel 2018, presso il Mambo, ha organizzato il convegno internazionale Frameless, senza cornice, l'opera d'arte tra supporto, contesto e città. Ha partecipato, come invitato, ad altri convegni sul tema in Portogallo, Francia e Regno Unito e nel 2017 ha pubblicato un libro intitolato Dalla strada al computer e viceversa, articoli, interviste e recensioni tra arte e cultura di massa. Oggi ci parla, e per questo facevo un riferimento logico ai procedimenti di estragnamento, di rovesciare la prospettiva arti visive e cultura visuale nel writing e nella street art. Grazie Claudio. Grazie, grazie Pierpaolo, grazie a tutti i presenti e gli organizzatori. Sono un po' emozionato anche per quello che hai detto, perché in realtà il percorso è stato molto lungo per tutti. Questa occasione, poi spero che non lo sia eccessivamente dal punto di vista nostalgico, per me è stato anche il modo di mettere in fila tutta una serie di cose, non tanto che avevo fatto, ma che avevo pensato in questi anni, quindi anche prima di quel famoso 2013. Tu prima mi ricordavi che in realtà eravamo qua anche un'altra volta dopo quel 2013, non al Teatro delle Passioni, ma qui a parlare, se non sbaglio in quel caso, dell'importanza dell'editoria mainstream e underground per la documentazione del writing e della street art. Prima di entrare direttamente nella relazione di oggi, volevo recuperare alcune piccole cose che sono state dette tra la mattina e gli interventi precedenti, perché fanno in un certo senso da spoiler, mettiamola così, ad alcune delle questioni di cui parlerò. L'assessore ha introdotto la giornata parlando di cambiare il percepito, ho proprio preso insomma il suo virgolettato e sembrava potesse parlare direttamente della relazione a cui facevo riferimento. Poi invece Leombroni ha esaltato in un certo senso i cultural studies, quindi l'unica vera prospettiva entro la quale sia i progetti che ho curato, che le ricerche che ho tentato insomma di produrre si sono inseriti e che per me sono direttamente collegati alla formazione all'università, perché quel tipo di impostazione mi viene dal Dams e da Bologna e da un rapporto che potrei definire di un innamorato non corrisposto con l'università. Questo per dire in realtà che tutte le ricerche che sono concentrate nella relazione di oggi sono nate fuori dall'università, fuori dalla quale mi trovo tuttora, ma non per scelta mia. Ultima cosa, quella che è stata riportata più volte anche negli interventi precedenti, compreso l'ultimo, è che lo sguardo iniziale con il quale prima proprio da adolescente, fan di queste cose, pur non avendo mai azzardato a provare a fare nulla di quelle attività di cui poi ho tanto studiato, di cui mi sono appassionato, era quello estetico effettivamente, cioè dell'impatto estetico, ma in realtà insomma già dalle prime volte non lo è voluto essere in maniera del tutto integrale, proprio perché secondo me chiunque si sia affacciato a questa tipologia di fenomeno espressivo, l'abbiamo chiamato, di argomento, di emergenza visiva, visuale, cittadina lo capisce immediatamente che non è un fattore esclusivamente estetico, pittorico, insomma. D'altra parte io in realtà mi sono avvicinato in un certo senso a questo tipo di studi proprio perché, quindi devo contraddirmi, ho prima da appassionato e poi da studioso e oggi da quello che ogni tanto mi definiscono storico dell'arte e quindi passando per, come dire, la possibilità di cercare e di individuare quali fossero i punti di eccellenza che l'arte, la critica d'arte, anzi aveva raggiunto, raccontando questo fenomeno e all'inizio insomma mi sembrava di essere anche nel posto adatto, Bologna, perché tutti forse lo ricordano, insomma questa immagine per qualcuno è diventata anche un cult, insomma nel 1984 le ricerche di Francesca Linovi hanno, tremendo l'Apsus, hanno portato all'elaborazione invece dello staff della Galleria d'arte moderna la realizzazione di questa mostra. Quindi una mostra in cui in realtà a giudicare, se non altro dal catalogo, a giudicare da tutto quello che veniva in nostro aiuto, perché le ricerche ovviamente non le stavo facendo solo io, lo stavano facendo anche tanti altri, era una mostra che raccontava l'arte di strada, in quel caso i graffiti, come l'avanguardia, una delle avanguardie pittoriche degli anni Ottanta. Perché questa cosa? Perché effettivamente poi nello stesso anno, questa è l'immagine in cui si vede l'archivio della Biennale di Venezia, in particolare la quarantunesima, quella dell'84, quindi lo stesso anno, Flavio Caroli, tra gli artisti, invita anche Iwan, Rammel Zee e altri che presentano tele, presentano in questo caso addirittura una scultura dipinta con delle bombolette, nel caso di Rammel Zee, e quindi artisti che producono opere in maniera leggermente diversa dalle altre, ma all'interno di un contesto che sostanzialmente non appare così tanto diverso dalle altre avanguardie, diciamo così, artiste pittoriche degli anni Ottanta. se non che in realtà, anche in Italia e anche parallelamente, c'era qualcuno che giudicava questo tipo di attitudini in maniera diversa. Nel 1983, per esempio, Corrado Levi, insomma artista, docente del Politecnico di Milano, invita Rammel Zee a fare una conferenza nel quale lui parla appunto di lettere, di simboli, di armare il linguaggio, di tutta una serie di dimensioni che non hanno proprio solo a che vedere con quelle che solitamente vengono definite i caratteri specifici di un'avanguardia pittorica, cioè che riflette sull'idea di pittura, sull'idea di colore, di composizione, di supporto, che ha, se non altro, una vocazione esclusivamente formalista, direbbero noi gli storici dell'arte. Ma in realtà, con studi, scavi d'archivio, qui forse si spiega il mio lapsus, alcuni condotti proprio da Fabiola Naldi, si scopre che una delle poche intenzionalità che erano state raccolte dallo staff della Galleria di Rata Moderna di Francesca Alinovi per quella mostra era quella che gli artisti, quindi i famosi, insomma, di quella lista nei quali ovviamente comparivano anche i One, Crash, Toxic, tutta una serie di figure, Futura 2000, che a Modena è molto noto, per esempio, sarebbero stati invitati, e sono poi stati invitati, a realizzare le loro opere direttamente alla Galleria d'Arte Moderna. E questo è, diciamo, documentato, adesso il video che li vede, insomma, li riprende, realizzare le loro opere, tra virgolette, dal vivo, è custodito all'interno degli archivi dell'attuale Mambo. E quindi, se volete, diciamo, una di quelle che sembrano in realtà le più recenti scoperte storico-artistiche sull'argomento, cioè il fatto di dargli anche una valenza performativa, con un termine tra i più sbagliati, credo, perché rimanda poi invece ad una dimensione che è la performance artistica, che aveva tutt'altri presupposti, perlomeno quella storica appunto della fine degli anni Sessanta, degli anni Settanta, ma diciamo una dimensione di azione, una dimensione nella quale effettivamente poi l'artista, se così vogliamo chiamarlo, si muove innanzitutto in uno spazio, che è uno spazio urbano, che ha tutte quelle caratteristiche che abbiamo sentito anche nominare precedentemente, perché spesso alla periferia, o almeno a New York sicuramente lo era, è luogo in cui ci dicono appunto i sociologi, gli antropologi, vivono solitamente emergenze anche dal punto di vista etnico, contaminazioni, dissidi, conflitti, per cui poi a un certo punto la storia dell'arte sembrava non avere neanche tutti gli strumenti per poterlo affrontare, motivo per il quale con Fabio Lanaldi, nei convegni che ricordava Pierpaolo, abbiamo necessariamente utilizzato la prospettiva multidisciplinare o dei famosi cultural studies, invitando prima Andrea Mubi Brighenti, che in Italia è, credo tuttora, insomma un baluardo di quello che è lo studio, di quella che lui chiama territoriologia urbana e legata in particolare al writing e alla street art, e poi Riccardo Campos, che è altro esponente di teorie di questo tipo, e tra i primi a farlo, che oggi sono ancora tra i più citati anche nei paper internazionali, fortunatamente, ci rendevamo conto, insomma, che mancava qualcosa da questo punto di vista. Quello che nel frattempo tentavamo di fare era prendere un'altra lezione che ci veniva dagli studi universitari, al DAMS, che era quella fenomenologica, ma non solo fenomenologica, diciamo così, di stampo filosofico come matrice filosofica, ma di quella che adesso è una materia a tutti gli effetti riconosciuta con delle categorie anche specifiche, cioè quella della fenomenologia degli stili, e quindi della lezione di Renato Barilli, che insieme a Francesca Linovi e poi anche successivamente aveva continuato comunque anche a parlare di questi argomenti, li aveva inseriti, per esempio, in grandi mostre come Pittura Ambiente, ma anche poi Pittura Dura, insomma tutta una serie di titoli che sono diventati anche, come dire, iconici, perché avevano affiancato alcuni di questi artisti e non sempre gli stessi o solo i nomi, diciamo, di assoluto riconoscimento, e a volte quelli che hanno creato degli equivoci storico-artistici, mi riferisco a Kiefering e Jean-Michel Basquiat, e a loro non essere prettamente, diciamo così, writer o non appartenenti a certe categorie che invece erano così importanti e così rappresentative per i famosi pionieri di New York, qui alle mie spalle vedete un muro realizzato a Bologna a quattro mani tra Phase 2 e Dado, e Phase 2 sicuramente è uno di quelli che ha rappresentato quel momento. E quindi, non so se per una strana assonanza tra il fatto che di stile continuavano a parlare loro, e noi avevamo questo background della fenomenologia degli stili, e la guerra degli stili, e style walls, insomma tentavamo di provare ad applicare le categorie che conoscevamo all'interno di questa dimensione, facendo molta fatica, perché qui quando si parlava di stili non avevamo le basi che fortunatamente invece ci venivano dagli anni di storie, di critica, anche così, o di storie della cultura profonda, che a Bologna hanno, come dire, anche una grandeur, qualcuno prima ha citato Luciano Anceschi da un certo punto di vista, poi insomma Roberto Longhi, insomma potremmo scomodare veramente tantissimi nomi per poi arrivare all'elaborazione di che cosa significa e quali sono i termini anche linguistici, le forme, quali sono i dettagli che ci consentono di riconoscere, per esempio, uno stile dall'altro, all'interno di quella che però era la dimensione di una storia dell'arte che aveva probabilmente, e anche di una critica d'arte, che aveva delle categorie che faticavano, insomma, con la street art di certo, col writing, secondo me, ancora di più. Quindi diciamo il percorso è stato di studio, è un tentativo anche di elaborazione simile a quello che in un certo senso si sta anche tentando di costruire con molta più consapevolezza oggi nella piattaforma urbana, interviste formalizzate, informali, insomma, confronti anche molto duri a volte con gli artisti ed esperienze, qualcuno prima le ha citate in maniera, diciamo così, esclusivamente in formato di conflitto tra artisti o, diciamo, gruppi informali, associazioni e amministrazioni pubbliche che in realtà a Bologna avevano avuto anche esiti molto positivi. Questo è un lavoro che, un'opera che spesso viene ricordata anche in questo percorso perché all'alba del 2000, insomma, un'associazione ormai formalizzata di artisti, ex writer o writer, non so come definirli, insomma, realizza a questo muro una facciata oggi si direbbe, un'intera facciata, insomma, di quelle che sono state anche citate precedentemente in accordo, insomma, con un'amministrazione, con un quartiere, comunque in dialogo con esponenti sia della politica che della pubblica amministrazione. Da tutto questo, diciamo, percorso di ricerca è nato il progetto che è stato più volte citato di cui non voglio parlare in maniera precisa se non ricordando il fatto che già in queste piccole elaborazioni che vedete alle mie spalle c'era l'idea della mappatura che aveva però avuto comunque tutta una serie di conflitti interni perché venivamo da un periodo in cui a Bologna c'era stato una sorta di repressione, di tentativo, addirittura di selezione, si faceva riferimento prima, c'era stata anche una squadra, diciamo così, una sorta di task force, Pandora era stata chiamata, quindi segnalazioni di tutta una serie di illegalità e di questioni che coinvolgevano anche, tra l'altro, minorenni, insomma c'era comunque un... le contraddizioni erano forti ed erano, come dire, ostentate. La comunicazione giornalistica tra l'altro non aiutava. In questo progetto abbiamo provato a rappresentare l'esito parziale e incompleto e, non lo so, sicuramente riferito ad un momento specifico di quella ricerca, di questa specie di evoluzione, insomma, degli stili e del tentativo di provare ad indagare in quali formati e in quali prospettive questi, così, benedetti stili si erano evoluti dall'America all'Europa e le differenze tra i vari Stati europei e le differenze, per esempio, anche di, come dire, di preparazione precedente che c'erano state. Noi in America sappiamo che la maggior parte di quelli che vengono definiti all'interno della scena, appunto i pionieri o comunque coloro che hanno in un certo senso generato questa sorta di movimento, o la maggior parte di loro non avevano compiuto studi artistici, avevano tutt'altro background culturale, mentre invece in Europa la situazione è completamente diversa e quindi probabilmente anche gli esiti erano diversi per questi motivi, tanto che a un certo punto, insomma, uno dei punti, diciamo, dei risultati a cui ero arrivato era quello di parlare del writing in quel momento o delle primissime forme di street art e di proporre una sorta di parallelo con quello che viene definito, diciamo, in biologia, nelle scienze, filogenesi o ontogenesi, no? Nel senso che lì in un saggio mi ero permesso di dire che questa cosa, che questo processo che il writer ha impostato alle origini in America, questa specie di percorso che sembrava quasi lineare, no? La scritta, caratteri stampatelli, poi il signature style, poi quello che ci avevano un po' insegnato anche gli artisti stessi attraverso le interviste e poi la, come dire, la complicazione, la sofisticazione degli stili era un elemento che si era svolto lì, quasi come se fosse, diciamo, una dimensione ontogenetica, cioè che da lì poi era partito fino ai nostri giorni, ma in realtà si ripeteva costantemente ogni volta che un ragazzino veniva in contatto con questa specie di cultura e ripeteva questo percorso aggregandolo, quella era la cosa interessante, aggregandolo, cioè facendolo contaminare con tutta una serie di stimoli culturali e locali del luogo in cui lo realizzava, poi. questo, diciamo, un po' il punto d'arrivo di questa sorta di prima parte, cerco di velocizzare. A che punto siamo? In realtà, dal punto di vista così dell'opinione pubblica, secondo me, non ci siamo mossi molto da un saggio che spesso viene molto citato da chi scrive paper, da chi studia questi fenomeni in prospettiva dei calciolastadi, che è il famoso saggio di Baudrillard, che parla dei graffiti come risposta, nel 1972 parla dei graffiti come risposta colpo su colpo alla comunicazione mass-mediatica, imperante anche nello spazio pubblico. Ovviamente il saggio scritto dopo un'esperienza new yorkese, quindi comunque una sorta di immersione antropologica, direi, nel luogo da cui tutto era stato generato e forse quello in cui si poteva capire, diciamo, un po' di più. Perché dico questo? Perché in realtà da un po' di anni a questa parte, perlomeno da quando sono stato incaricato di tenere il corso di teoria della percezione all'Accademia di Belle Arti di Bergamo, la prospettiva anche su questo tipo di dimensioni, su questi fenomeni, la mia personale prospettiva è un po' cambiata. Per questo il titolo che vi dicevo prima, Rovesciare la prospettiva, che è una specie di piccolo omaggio da storico dell'arte al saggio di Pavel Florensky, la prospettiva rovesciata, che in teoria, diciamo, offre una nuova, un'inedita lettura delle icone russe e del perché certi errori, tra virgolette, prospettici o rappresentativi, in realtà non erano errori ma erano, come dire, caratteristiche specifiche di quella proposta artistica, ho tentato di affrontare in un altro modo. Cioè, al momento in cui ci troviamo, o comunque negli ultimi anni, mi era sembrato di essermi perso anche proprio. Cioè, quello che avevo nel tempo imparato anche a introiettare, a definire come graffiti, come street art, quindi le categorie, le terminologie, le azioni delle pubbliche amministrazioni, le azioni degli artisti stessi, non le riconoscevo più. Non avevo, diciamo, mi sembrava di avere perso quella bussola che vi ho raccontato invece in tutta la prima parte. Quindi effettivamente chiedevo, ma come percepiamo i graffiti e la street art, ma soprattutto perché, diciamo, li percepiamo in questo modo. Perché, per esempio, sussiste ancora questa contraddizione infinita, non riusciamo a spostarci da legal-illegale, arte-non-arte, oppure da, diciamo, l'incanalamento e lo sfruttamento, tra virgolette, economico, di brand o di altre situazioni di questo tipo di culture. Ovviamente non ho le risposte a queste domande, ma tutte queste dimensioni continuavano a ripresentarsi proprio costantemente in quello che possiamo chiamare il paesaggio visuale urbano, cioè in una dimensione molto più ampia. Diciamo che se tutta la prima parte la ricerca si era concentrata entro i limiti del muro, se mai le avessi avuto, entro i limiti dell'outline, direbbero i writer, la seconda parte invece tentava di aprirsi per trovare, insomma, anche delle letture. Questa, per esempio, è un frame di una videopubblicità scattato proprio passando qualche anno fa alla stazione centrale di Milano, in cui il graffiti artist, così lo chiamano, vedete Kevin, 22 years old, graffiti artist, è il modello della, diciamo, della campagna pubblicitaria per, diciamo, vendita di prodotti legati, se non altro, al comparto abbigliamento street style, è il modello di rapporto libero e anche, se volete, come dire, di occupazione dello spazio pubblico, di interazione con la città più libera possibile. Quindi, diciamo, se il mondo fosse questo, noi probabilmente non staremo neanche qui a discutere, perché, no, i giovani sono liberi di fare quello che vogliono nello spazio pubblico, tant'è che, appunto, lo street style è la dimensione imperante e questo. Da quello che ho sentito stamattina non è così. Seconda opportunità, diciamo, di riflessione, è già stato citato in maniera forse più localistica, no, nel Pigneto, insomma, San Lorenzo, altre cose, mi cade l'occhio su questo articolo del New York del 2014, che dice, che parla, appunto, no, il titolo mi aveva veramente impressionato, New Must Have for Luxury Buildings Graffiti, dice, appena hanno scoperto nella ristrutturazione di questo albergo di lusso una emergenza, diciamo, espressiva, riconducibile, in un certo senso, alla scena graffiti e street art, vuoi mai, anziché l'hanno cancellata, l'hanno, diciamo, messa sotto vetro, l'hanno trasformata in uno degli elementi essenziali della condizione dell'essere all'interno di un albergo, in questo caso, di lusso. Ancora, questa è una slide a cui sono molto legato, questo è un film di qualche anno fa, At First Sight, a prima vista, ci sono molto legato perché il film in realtà è ispirato ad un racconto, analisi di Oliver Sacks, il neurologo, insomma, ma in realtà culturologo, insomma, mi verrebbe da dire, molto noto, insomma, per i suoi studi su tutta una serie di problematiche legate alla percezione, anche alla percezione della malattia, per esempio, della malattia mentale. In questo saggio che è ispirato poi alla storia vera di una persona che recupera la vista da uno stato di quasi totale cecità, recupera la vista in età molto avanzata, diciamo, dopo i 40 anni, e quindi il saggio si snoda tutto sul saggio racconto, su tutto quello che viene ad essere inserito come l'idea che in realtà la vista è un qualcosa che viene ad essere influenzato da tutto l'ambiente sociale in cui qualcuno nasce, vive, che è una cosa che viene esercitata, che non è, insomma, tutta una serie di cose che a volte reputiamo banali, ma che spesso e volentieri non ci facciamo caso, non ci prestiamo parecchia attenzione. Insomma, in una scena di questo film, il protagonista, appunto, colui che ritrova la vista dopo anni di cecità totale, vede il retro di questo camion in America e immediatamente dice, ah ma questa è arte, e la ragazza, insomma, la sua compagna che lo sta anche accompagnando in un certo senso in questo percorso di recupero della vista dice, no, chi lo voleva fare, voleva solo rovinare, quelle scritte sono disgustose, quindi da un certo punto di vista c'è l'impatto immediato con le cose che forse avremmo anche la necessità in un certo senso di recuperare senza doverle gestire attraverso tutta una serie di sovrastrutture che diventano a quanto pare pericolose, perché lei fa riferimento non al fatto che è brutto, non al fatto che ha delle categorie estetiche per poterlo distruggere, ma è che siccome chi l'ha fatto voleva rovinare, non so chi me l'ha detto, ma è così, allora non è bello. E ancora invece, come dire, stereotipi, contraddizioni sulla street art, questa è una serie televisiva molto famosa, molto nota, Orange is the New Black, di qualche anno fa, a un certo punto una delle protagoniste si mette a disegnare sopra uno spazio, se diciamo un casotto all'interno della prigione in cui è reclusa, l'osservatore gli dice, normalmente la street art mi terrorizza, ma questa è davvero bella, dice chi la guarda, e lei risponde appunto, non dovrebbe esserlo, proprio perché probabilmente le categorie percettive alle quali siamo abituati ci hanno portato anche un po' fuori strada, come quelle che vi dicevo, storico-artistiche nel senso classico e anche conservativo, restaurativo in un certo senso, non ci consentivano a tutti gli effetti di comprendere, non ci consentono a tutti gli effetti di comprendere il fenomeno nella sua interezza, allo stesso modo questo accade. E quindi in realtà le poche occasioni che mi hanno visto cercare di portare avanti queste ricerche negli ultimi anni hanno allargato la prospettiva, hanno allargato il fuoco della camera, insomma del campo visivo con il quale cercavamo di analizzare queste dimensioni, nell'immagine in alto, per esempio, verso il fondo, insomma, vedete uno dei muri, delle pareti, insomma delle opere realizzate durante il progetto Frontier, ma inserito ovviamente in una dimensione cittadina più ampia e quella in basso, invece i più avvezzi avranno sicuramente riconosciuto lo stabile dentro il quale era ospitato l'XM24, ma è quindi uno degli ultimi murali di Blu che l'aveva così accompagnato, ma in una dimensione ovviamente più ampia, cittadina. Quindi quello che fondamentalmente, così chiudo perché mi sa che sono andato anche un po' troppo avanti, auspichiamo, insomma, che questa ricerca possa portare è di non perdere sicuramente la vocazione multidisciplinare e lasciatemi dire anche di non perdere tempo, perché da tanti punti di vista siamo in grave ritardo. Grazie. Grazie.